Quinta edizione del mercatino di Natale del Magic Hotel qui ad Atena Lucana, ne parliamo con Colombina Marino. Sì, siamo contenti di presentare anche quest'anno il nostro mercatino di Natale, siamo alla quinta edizione, quest'anno con ancora più stendisti e ne andiamo veramente fieri di questa cosa, che questo spirito natalizzo stia crescendo di anno in anno sempre più. C'è un piccolo cambiamento rispetto alle scorse edizioni perché iniziamo un po' prima, nel senso che l'apertura ci sarà il 2 di dicembre, quindi venerdì sera alle 17, il mercatino che sarà visitabile tutti i weekend dal 2 al 18, quindi venerdì sabato e domenica, e poi ci sarà ovviamente lo special open all'Immacolata, perché giorno festivo e anche per un altro motivo, perché quest'anno abbiamo una grande novità, nel senso che nel periodo centrale del nostro mercatino che va dall'8 all'11 avremo il bianco Natale, in che senso? Con i sparaneve artificiali, il tutto ovviamente per creare ancora di più l'atmosfera natalizia, per far sentire quello che è un po' l'ambientazione anche del Trentino, dove la neve certamente non manca, da noi purtroppo sì, e quindi diciamo per rendere il tutto ancora più carino, ancora più bello, abbiamo pensato a questa novità quest'anno. Inoltre abbiamo dato una diversità anche per quello che è la parte gastronomica, infatti ci sono i weekend a tema, il primo weekend sarà dedicato a Napoli, abbiamo l'altro weekend ancora dedicato al Trentino con la Polenta, e poi l'ultimo weekend invece è dedicato alla Sicilia, quindi si potranno degustare specialità ovviamente anche a tema natalizio durante questi tre weekend. inoltre c'è un'altra novità che è legata a quello che è il mondo del vino. Come ben sapete siamo molto legati un po' a quelle che sono le attività intorno alla degustazione, all'avvicinamento a quello che è il mondo del vino, e quindi quest'anno con la Cantina Feo di San Gregorio abbiamo un doppio appuntamento legato a quello che è la musica jazz e alla degustazione del vino. Quindi Christmas Wine Jazz il 9, venerdì 9, e anche venerdì 16. Quindi si potranno degustare etichette di feudi, ma non solo di feudi, delle cantine che fanno parte di questa bellissima cantina della nostra regione Campania. Che dire, durante l'apertura il 2 avremo con noi poi il coro Amici della Musica di Sant'Arsenio, quindi per avere un inizio anche gioioso e caloroso. Babbo Natale è con noi anche quest'anno, quindi sarà pronto ad accogliere i bambini, c'è anche uno speciale letterina quest'anno, quindi tutte le letterine che verranno consegnate a Babbo Natale, il 18, saranno ricompensati da un piccolo regalino che viene direttamente dal Polo Nord. Inoltre, giorno 18, Babbo Natale sarà accompagnato da Mamma Natale e dall'elfetto lavoratore. Le idee regalo sono davvero tante quest'anno, ancora di più degli anni scorsi, di tanti artigiani che fanno parte del nostro territorio e del bacino del Cilento, e una grazia particolare va anche quest'anno alla Banca Montepruno, al direttore albanese, a tutto il suo staff e a Antonio Mastandrea, che anche in questa edizione ci stanno vicino, ci stanno supportando e stanno supportando i loro contoconnentisti, perché come ben sapete la Banca Montepruno è la banca amica, è la banca amica di questo territorio, è la banca amica del nostro mercatino di Natale, oramai dalla prima edizione. Ecco, come dicevi, c'è artigianato, c'è gastronomia natalizia, ancora una volta il Magic Hotel in questo periodo lancia soprattutto tante aziende del Vallo di Diano che appunto hanno occasione di poter presentare i propri lavori. Sì, assolutamente sì, anche perché veramente sono tante le aziende che stanno crescendo e che meritano essere promosse. Veramente ci sarà da sbizzarrirsi nel degustare, nel trovare l'idea regalo del territorio, fatta da persone del territorio, con il cuore e con l'anima. Regalare un qualche cosa di unico, perché sono uniche questi oggetti, beh, credo che così sotto l'albero si ritrovano veramente dei regali belli, unici e fatti con il cuore. Vi aspetto a tutti, piccoli e grandi, dal 2 al 18, al mercatino di Natale, qui nel piazzale del Magic Hotel, per trascorrere veramente dei giorni di gioia e nella casa di Babbo Natale, con noi, con tutti i stendisti, con la grande famiglia del mercatino di Natale Atena.